Bianco, gol, gol! Siamo con Teresa Polarias. Teresa, cosa ne pensi della partita di oggi? È stata una partita qualitativamente elevata, con un ottimo avversario, un ottimo test per noi. Cosa pensi del calcio italiano? È la prima volta che affronti calcetrici italiane? Siamo già venute una volta con la nazionale giovanile alcuni anni fa, conosciamo bene tutte le giocatrici, sono un'ottima squadra, siamo state anche a vedere Italia e Inghilterra del maschile, un calcio fantastico. Qual è l'obiettivo del mondiale? Non abbiamo mai raggiunto i quarti di finale, al momento viviamo ogni giorno come viene e cercheremo di farcela. Grazie mille, buona luck! Grazie mille, buona luck!